Per la prima volta il comune di Pesero promuove un bando per agevolare le rimozioni di amianto da parte di cittadini o abitazioni private. 30.000 euro la cifra messa a disposizione dal comune con contributi del 50% sulle spese di intervento di rimozione fino a un massimo di 1.000 euro ad ogni intervento. Un bando che è stato presentato oggi nel municipio pesarese che è volto a incentivare questo tipo di bonifiche. Il periodo del bando va dal 19 agosto scorso fino al prossimo 15 novembre. Possono essere dunque erogati i contributi a coloro che faranno domanda di rimozione entro la metà novembre e possono essere rimborsati i contributi a chi ha effettuato analoghi lavori dal 19 agosto scorso ad oggi. Il bando scade il 15 novembre e siccome è riferito a delle operazioni di smaltimento e di bonifica che riguardano appunto l'MCA che devono essere concluse entro la presentazione della richiesta è molto importante segnalare questa data finché la cittadinanza possa mettere in moto. Il contributo è del 50% della spesa fino a un massimo di 1.000 euro e questi sono gli elementi cardine molto importanti che ci fanno anche comprendere il target degli interventi ma è una prima prova per capire la rispondenza da parte dei cittadini. Diciamo che il comune non è obbligato a fare questo tipo di operazioni nel senso che i bandi e gli stanziamenti finanziari devono pervenire per compito della normativa nazionale dai livelli regionali. Noi comunque abbiamo voluto iniziare con questo bando, con questo importantissimo segnale. Innanzitutto il bando è rivolto ai privati cittadini, quindi non riguarda le ditte, le imprese ma riguarda i privati cittadini. Riguarda quegli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, quindi non sono ricompresi i confinamenti ma il materiale deve essere smaltito correttamente da parte di ditte che sono riconosciute per legge. Le domande devono essere presentate direttamente dalle ditte che hanno effettuato gli interventi e questo qui l'abbiamo fatto per semplificare la vita dei cittadini in quanto le ditte per legge sono dotate di PEC e di firma elettronica, non tutti i cittadini hanno una cosa di questo genere. Per i condomini, anche lì per cercare di semplificare l'azione, abbiamo individuato i soggetti che possono attribuire l'incarico alle ditte agli amministratori. Nei casi in cui ci siano abitazioni plurime ma senza la costituzione dei condomini, basterà una delega da parte dei vari condomini a un soggetto per poter presentare l'istanza stessa. Devo dire che questa è un'operazione che riguarda l'amianto che si inserisce in un quadro più generale che abbiamo iniziato a attenzionare anche con la commissione ambiente in una prima riunione, che faremo anche una commissione ad hoc per esempio nei vari siti che andremo ad ispezionare e che magari nell'ambito del Comune di Pesaro hanno avuto una certa attenzione anche in Consiglio Comunale, quindi in primis Monte Ciccardo.